Il rischio è che essendo meno gli specialisti a lavorare possa essere compromesso il diritto alla salute del cittadino perché chiaramente si allungherebbero i tempi, potrebbero venire meno tante prestazioni quindi si tratta proprio di una forza lavoro mancante. Io sì, sono molto ottimista proprio perché stiamo prendendo coscienza delle criticità ci stiamo muovendo tutti insieme con l'istituzione degli osservatori regionali per cui penso che ci sarà modo di poter ottenere i risultati dovuti.